insieme ma no Twitch è un altro live di Marco Drums in questo momento vabbè lo facciamo dopo perché per adesso non mi vede come come live ok campagna ragazzi nuova partita facciamo facile perché io non lo so andiamo e incomincia questa meravigliosa avventura ragazzi concedimi un istante se potessi sapere come dirai vivresti la tua vita diversamente il mio nome è Adria è la mia è l'ultima faccia che riuscirai a vedere sicuro sicuro? ciao ragazzi benvenuti su Twitch allo infinite Xbox Series X che figata che figata pazzesca attenzione pressione in aumento sulle linee 4 17 e 33 pressione in aumento sulle linee 4 17 e 33 pressione in aumento sulle linee 4 17 protocollo accettato sulle linee 4 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 sulle linee 5 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 Peterina Allo Infinito È bello perché è storia Ciao Davide, ciao ragazzi, pittici, benvenuti Grazie Qui Pelican UNSC, ecco il 216, mi ricevete? Qui UNSC Oh mio Dio Ragazzi, io non metto la cam perché non ce l'ho ancora su Series X, ma arriverà Natale Oh, l'ho portato dentro Bravo, bravo amico Le batterie principali sembrano fritte La corazza invece è entrata in modalità sopravvivenza Aspetta, ora cerco di escluderla Ok Se mi senti là dentro Spero tu sia pronto Ti prego, non morire Per favore Non Non morire Cazzo Sì 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 Ce ne andiamo a casa Bentornatoci Ho reindirizzato, l'energia è rimasta nella tua corazza Vedo un problema alla matrice di calibrazione Almeno credo sia quello Ok, segui la luce Guarda su Ragno, guarda Guardate il ragno Qui Dove lì? Quanto vuole Vuole Eh, non l'hai visto Prova a destra Prova a destra Eh, destra l'ho fatto Testino E ora a sinistra La trasmissione del visore e le funzioni motorie sono operative A pare ci sia un problema coi motori delle mani Prova a muoverle Tranquillo Sei rimasto là fuori per un po' So di aver visto qui in giro qualcosa con cui controllare la tua corazza X Oh, cazzarola Si è mosso? Ehi, stai calmo ragazzone Rapporto 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 Ma cosa? C'è qualcosa che devi vederci Abbiamo perso Perso tutto Per noi non c'è più niente qui Non so nemmeno dove sia qui Non so nemmeno dove sia qui No No, 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 no No, loro No, di nuovo Dobbiamo scappare Dammi un'arma Un'arma? Questo è tutto quello che ho Mi basta Cosa voglio fare? Improvvisi Ehi, chiudi Allora, nave da guerra G-B-RA-CON Le batterie principali sono a terra Siamo bloccati Le batterie sono scariche allora Perché se erano fritte Non si poteva far più niente Hai un solo proiettile contro un intero esercito Che puoi fare da solo? Ve l'ho detto Basta Sì, capisco No, no, no Stanno attivando un raggio di stasi Non possiamo fuggire Pensa alle batterie Io prendo tempo Incredibile Ce l'hai fatta E ora? Con quel raggio di stasi attivo Siamo bloccati Lo disattiviamo Raggio di stasi Armi Tutto qua Ma come tornerà indietro? Mi inverterò qualcosa Trasporto nemico blu Scato dal raggio di stasi Scazzioni iniziali con codesti Schierare la squadra Nell'hangar 1 Eliminare Tutti i sopravvissuti Eliminare? Chef Qualsiasi cosa tu voglia fare Falla in fretta Ok Ok Il demone è vivo Il demone è vivo Non c'è tanto L'uomo verde è qui No Il demone è di far stellen E richter la squadra Tite Trazione Con . Ah, l'ho finito a legnate in faccia. Allora, cinetiche. Eccolo qua. Ciao, piccolo. Ah, l'ho aperto uno. Amin. Dov'è stata tardi? Arrivamo, eh. Allora, se mi state scrivendo, ragazzi, io non so se su Series X mi vengono fuori i messaggi, eh. Non me lo ricordo più. Il trattore di energia 256, prepararsi allo schieramento. Torre del Sessore 334, dalleggiata. Ritirarsi. Ascarpato sui denti. Iniziamo i preparativi finali. Una meta da sbarco. Una forza d'invasione. Non abbiamo nessuna possibilità. Gli esiliati hanno già vinto. Potremmo essere gli unici due umani sopravvissuti. C'è ancora speranza. Non abbiamo nessuna possibilità. No. Non abbiamo nessuna possibilità di ritorno. No, non nemmeno. Non abbiamo nessuna possibilità di ritorno. Non è un'annazionale. Non è un'annazionale. notte State attenti e ci rivedremo sull'anello. Siamo contenti. Facciamo finita. Bello che mi dice dove devo andare perché a volte non si capisce proprio. Ma non c'è. Grazie a tutti. 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 Oh porca loca. Oh porca loca. Oh porca loca. Oh porca... Oh porca... Oh... Oh porca... Oh porca... Eh sì... Oh porca... 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 Cosa è stato? Non è stato bello. Anche gli esiliati sembrano terrorizzati. Non c'è più tempo. Batterie? Si stanno caricando lentamente. Non so. Deve essere vicino. Troppo. Arrivaremo. L'equipaggio è al 37%. Solo i più forti rincheranno alle armi, fratelli. Bene. 90 secondi alla carica completa. Spero che questo posto resista così tanto. Dai, sbrigati! Oh, dai. Oh, andiamo. Oh, andiamo. Chief, ci sei ancora? Ci sono. Ok. Dammi un secondo. Sto arrivando. Eccolo. Bentornato, ragazzone. Andiamo via da qui. E ragazzi, Marco Drums Games, Halo Infinite. Sul mio canale, tutta la campagna, il multigiocatore e tutti i giochi fichissimi di Xbox Series X, Game Pass Ultimate. Figata. se c'è un filmato, lo faccio vedere a voi e noi ci vediamo domani, ragazzi, eh? Mi raccomando di seguire Marco Drums Games. Eccolo, non è un filmato. Eccolo. No. Mi sento... rinvigorito. Ci hai promesso vendetta, superiorità, cambiamento. Lui, minaccia, tutto. È in dubbio la mia guida. La visione di Atriox. Atriox è morto. È colpa sua se siamo bloccati qui. Gli esiliati non si inchineranno mai più a nessuno. Non hai Covenalte. Non hai Proface. E neppure... a lei. Ti vedremo qui. Perciò se no non si fa. Brava. Bellissimo, raga. Bellissimo, ragazzi. Mi raccomando di seguire Marco Dranz su Twitch, YouTube, Facebook, Twitter, Discord e TikTok, raga. Così continuiamo a fare live fichissime, ragazzi. Triangolazione in corso. Triangolazione in corso. È la fine, vero, C? Se non andiamo via di qua, torneranno, ci troveranno e ci uccideranno. Cos'è che stai cercando? Riscontro trovato. Segnale localizzato. Rotta. Non c'è niente. Stai cercando dalla parte sbagliata. Torniamo a casa adesso. Rotta. Richiesta di controllo manuale del volo. Dai. Pilota automatico attivo. Aspetta, cosa? Stai scherzando? Perché dovremmo andare laggiù? Gli esiliati vogliono spazzarci via. Tutti. E allora? Tu credi che noi possiamo fermarli? Te l'avevo detto. Noi abbiamo perso. Ci serve un aiuto. Basta atti eroici. No. Facciamo il nostro dovere. A tutti i costi. Non posso essere... Il greco della vostra è la pilota automatico di Tesserito. È una nuova missione. Quattro, tre, un'arma, due, un'arma. Di quanti armi hai bisogno? Ma che problema hai? Non prenderò mai più a bordo uno Spartan. È davvero una pessima idea. Ci stanno cercando. Tutti quanti. In arrivo. Tutte le direzioni. Ok. E dai, salva. Una bella salvata. E noi ragazzi, da... Allora, Infinite è tutto. Mi raccomando di seguire il canale YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok e Twitch. Mi raccomando di seguirmi e di iscrivervi ai canali. Attivare la campanellina così sapete quando faccio le live. E... 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 E portare gente sul canale. I vostri amici, parenti e... Insomma... E chi più ne metta. Così facciamo live ancora più fighissime, ancora più giochi e ancora più intrattenimento. Ciao a tutti dalla mia meravigliosa Xbox Series X, Allo Infinite, campagna fichissima. È tutto da Marco Drums Games Channel. Ci vediamo domani sera. Ciao ragazzi! Ciao a tutti!